Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e sto facendo questo video per tenere un po' aggiornati tutti quanti allora non guardate tanto il video perché mi serviva solo una clip per parlarci sopra e per spiegarvi un pochino più o meno tutto quello che è passato oggi sul mio canale allora sul mio canale oggi io ho passato un glitch dei soldi da fare da soli, subito dopo ho passato un glitch per duplicare le BMX e per fare il glitch dei soldi da fare da soli e ho fatto anche una live e un video in cui vi spiego come mettere la BMX nella base operativa lo so, forse avrei dovuto fare prima il video su come mettere la BMX nella base operativa, poi come duplicarla e poi il glitch dei soldi ma se avrei fatto questo automaticamente il glitch dei soldi lo avreste conosciuto magari molto più tardi rispetto a quando lo avete visto nel senso che alcuni magari avevano la BMX in base operativa e potevano già fare il glitch dei soldi, altri no e quindi per questo motivo io ho caricato il glitch dei soldi da fare da soli quindi con questo video volevo semplicemente ricordare a tutti quelli che magari non hanno seguito diciamo in real time tutto quanto quello che è successo oggi sul canale come dicevo con questo video vi volevo ricordare di questi video di queste cose che io ho caricato sul canale come vedete questi sono i glitch che ho caricato io oggi sul canale e qui nella scheda in alto a destra dove indica la freccia troverete tutti quanti i video per questo motivo ho fatto questo video in maniera tale che voi possiate vedere tutti quanti diciamo questi video e usufruire di questi glitch vi basterà cliccare sulla scheda qui in alto a destra dove vedete la freccettina e lì troverete questi video il glitch da fare da soli come mettere la BMX nella base operativa che però vi servirà un amico e come duplicare la BMX per fare il glitch dei soldi da soli e questo qui ragazzi lo potrete fare da soli in pratica che cosa fate? vi mettete una BMX nella base operativa tramite l'aiuto di un amico ovviamente e una volta che avete messo la BMX tramite l'aiuto di un amico nella vostra base operativa potrete fare la duplicazione delle BMX perché quante più BMX avrete nella vostra base operativa quante più duplicazioni potrete fare per fare il glitch dei soldi da soli se avete 7 BMX potrete fare 7 duplicazioni ricordatevi sempre è fondamentale lasciare una BMX nella base operativa per poter fare nuovamente il glitch della duplicazione delle BMX per continuare a fare il glitch dei soldi spero di essere stato abbastanza chiaro con questo video detto questo un saluto a tutti aprite la scheda per saperne di più al prossimo video ciao a tutti